Tragico annuncio. Lutto per la musica italiana. La terribile notizia poco fa. È morto di… Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Una tragica notizia ha scosso il mondo della musica italiana, gettando un'ombra di tristezza sul leggendario Vasco Rossi. Il noto rocker, icona incrollabile della scena musicale nazionale, ha condiviso con un post commovente su Instagram il suo dolore per la perdita di una persona molto cara. Si tratta di Andrea Giacobazzi, un amico di lunga data di Vasco, le cui radici affondano nei tempi in cui entrambi risiedevano nella pittoresca zocca, città natale del cantautore. Giacobazzi è stato non solo un amico, ma anche un ispiratore per Vasco, influenzando persino la creazione del celebre brano Colpa d'Alfredo. Il cantautore non ha potuto fare a meno di esprimere il proprio dolore e gratitudine per l'amicizia e il sostegno ricevuto da Giacobazzi nel corso degli anni. Mi mancherai moltissimo, sarai sempre vivo nel mio cuore, ha dichiarato Vasco. Andrea è sempre stato al mio fianco, anche quando il mondo sembrava voltarmi le spalle. Questo è ciò che desidero ricordare di lui, perché so quanto questo fosse importante. La sua scomparsa avvenuta a Modena, all'età di 67 anni, a seguito di complicazioni post-operatorie, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Vasco e di tutti coloro che lo conoscevano.